Ciao a tutti amici di Volumbrite, siamo qui la seconda giornata del torneo BNL Open 2018 e siamo qui con un ospite belga, Mike Denayer, e gli chiediamo subito com'è andata. Come c'era la tua giornata ieri e tu hai gagnato, tu hai perduto, come si è passato? Ho giocato il mio primo match, molto facile, ho giocato contro un giocatore meno forte che io, quindi c'era un po' più facile. Ma è stato molto caldo, quindi non è più male che si vede sul terreno. Mike ha detto che ieri è soddisfatto perché ieri ha vinto, per lui è stato abbastanza facile perché ha giocato con un atleta un po' meno forte di lui. Però ha lamentato il caldo che ovviamente tutti abbiamo sofferto ieri, ma che soffriremo anche oggi. Oggi oggi si fa tre show. Sì. Sì, questo mattino ti ha giocato anche questa giornata? Sì, ho giocato questo mattino, quindi ha fatto un po' meno shock, c'era più l'air. Ok, anche questa mattina ha giocato, anche questa mattina ha vinto, e ti hai già stato in Italia o c'è la prima volta? Io sono già venuto a Turin e io vengo in Italia ogni anno, ma è la prima volta che io vengo in questo club. è un club, è un club molto bello, è molto bello di giocare qui. Ok, gli ho chiesto se era già stato in Italia, se gli piace questo posto, il Monviso Sporting Club, e ha detto che è la prima volta che viene qui al Monviso, ma che conosce già l'Italia, che ogni anno fa visita all'Italia e che comunque ama molto questo posto. Grazie mille e buona chance a tutti i giochi ancora, e, buon, grazie. Grazie a voi.